Io sono qua per parlarvi di una cosa molto più importante di Fuerteventura Vi sto parlando delle reti neurali Cioè, non in questo istante Ma in questo sì Benvenuti alla seconda parte del celebre format Come funzionano le reti neurali La mia idea iniziale era quella di fare tutta una presentazione unica Ma, diciamo, essendo un po' troppo, ho deciso di dividerle in due parti Per chi non avesse visto la prima parte Trovate il link in descrizione su YouTube E invece per chi è qua su Twitch Vi faccio un recap rapidissimo delle cose che dovete capire Per poter andare avanti ed essere qui insieme a me Ieri abbiamo parlato di due concetti fondamentali Ok? Prima di tutto abbiamo introdotto che cos'è una rete neurale Va bene? Una rete neurale è un oggetto fatto così Questa è la rete neurale più semplice che c'è La rete neurale, in buona sostanza, mangia un input Ok? Gli viene inserito un input numerico Numerico E tramite delle semplici operazioni algebriche Ok? Come ad esempio queste moltiplicazioni che vediamo qua Produce uno o più numeri in output Molto semplice Queste operazioni che accadono all'interno della rete neurale Sono condizionate, sono guidate da dei valori che si chiamano Pesi Ok? Che sono queste W che vedete qua Quindi l'idea riprende un po' quella del cervello umano Nel quale ci sono dei segnali Che vengono propagati all'interno dei neuroni della rete Che sono questi pallini qua Ok? Fino ad arrivare ai pallini finali La cosa fondamentale da comprendere Della Delle reti neurali E che le reti neurali si utilizzano in due modi O meglio Per poter utilizzare una rete neurale Bisogna prima allenarla Bisogna farla Bisogna farla impararla Per citare Farla innamorarla Dovete far imparare alla rete neurale Delle cose Le cose che volete risolvere Ok? Quindi voi avete un problema Allenate la vostra rete Per risolvere quel determinato problema E poi la utilizzate Ieri abbiamo fatto un po' di esempi Ma sostanzialmente Per allenare una rete Prendiamo ad esempio questa rete Che è una rete feedforward Che ha l'intento di Riconoscere Un numero In una foto Ok? Un numero in una foto Quindi Noi abbiamo questa foto Di 25 pixel Che rappresenta un numero La diamo La convertiamo in valori Numerici E poi La diamo in pasto Alla nostra amica rete E alla fine La rete Ci dirà Beh Questo è un 1 Questo è uno 0 Questo è un 9 Ripeto Ieri ho spiegato nel dettaglio Come accade Oggi non posso più farlo Se no Continuo a ripetere sempre Le stesse cose Però la cosa che mi interessa Che comprendiate In questo momento È che In fase di apprendimento Alla rete Vengono dati Vengono date Tante coppie Numero E che numero È Quindi la foto del numero E poi la soluzione Foto del numero Soluzione Foto del numero Soluzione Foto del numero Soluzione In fase di apprendimento La rete Prova A indovinare Che numero È E poi avendo la soluzione Se questa È sbagliata Corregge i pesi Al suo interno Tramite un algoritmo Che si chiama Backpropagation Corregge i valori Al suo interno Per far sì Di classificare Correttamente L'immaginetta Che gli abbiamo dato Per far sì Di rispondere Correttamente All'immagine La cosa forte È che Le reti neurali Generalizzano Quindi Se tu gli dai Tante versioni Di Numero 3 Ok Tante fotografie Un'angolata diversa Luci diverse Calligrafia diversa Angoli diversi Comunque La rete È in grado Di riconoscere Che quello è un 3 Perché tu gli dai Tanti esempi Diversi di 3 E lui E lei Sarà in grado Di riconoscere Appunto Che numero è Però poi Abbiamo posto Un problema fondamentale Ieri Abbiamo detto Beh Figo Ma Non abbiamo detto Che le reti neurali Trattano numeri Sì E allora Come è possibile Che le reti neurali Che ci sono adesso Tipo GPT Trattino i testi Il video su youtube C'è già Moderatori Se avete voglia Di metterlo in chat Come facciamo A trattare testi Beh Abbiamo introdotto Un concetto fondamentale Il concetto di Embeddings Su questo ci abbiamo perso Molto tempo Quindi Non posso Farvi rivedere tutto Però fondamentalmente Che cos'è L'embeddings Un embedding Di una parola E un vettore Cioè una lista Di numeri Che identifica Quella parola All'interno Di uno spazio N dimensionale Dove N È la dimensione Di vettori Ok Quindi Tipo qua Abbiamo Cane Gatto Lucertola Coccodrillo Questi sono identificati Da dei vettori Questi vettori Sono calcolabili In tanti modi Abbiamo visto All'inizio Una tecnica Molto stupida Poi abbiamo visto Una tecnica Che mi sono inventato io Quindi diciamo Non c'è Era solo per farvi vedere Cosa avremmo voluto avere E questi vettori Li ottieni In tanti modi possibili Uno è il Coccure Resmetrics È uno dei più Diciamo Funzionanti È L'algoritmo Di War2Vec Che è stato introdotto Nel 2016 Da Mikolov Vi ho spiegato Come funziona La rete neurale War2Vec Che è In particolare La versione Skipgram Che vi permette Di ottenere Gli embeddings Ok Quindi Al fin della fiera Quello che dovete capire È che gli embeddings Sono dei vettori Che piazzano Le parole All'interno Di uno spazio N dimensionale Ok E grazie a questo fatto Parole vicine Simili Con significati simili Con comportamenti simili Risultano essere Vicine In questo spazio Parole invece Che sono Diverse Sono distanti O opposte Questo è un rassunto Ovviamente Se non avete seguito ieri Non capirete a fondo Quello che ho appena detto Però Queste sono le nozioni Che ci bastano Per poter andare avanti Sugli embeddings Aggiungo ancora Che nel tempo Ne sono stati fatti Tanti Perché questi embeddings Qua Quelli di War2Vec Soffrono ancora Di problematiche gravi Ad esempio Non c'è Modo Di Rappresentare La somiglianza Sintattica Cioè La parola Per dire Car Ok La parola car E la parola Cosa è successo La parola car E la parola cars Si assomiglieranno No? Cioè Avranno dei significati simili Per il fatto che Sono quasi Del tutto identiche Però ci sono anche parole Che sono quasi del tutto identiche Ma hanno significati diversi Quindi Oppure Ci sono parole identiche Che hanno significati diversi E infatti Questo è proprio L'essenza Del problema Di War2Vec Ok Ossia Che War2Vec Soffre di una problematica Che si chiama Meaning Conflation Conflation Cosa significa? Significa che Se una parola Ha Un solo vettore Ok Questo implica Che tutti i significati Di quella parola Hanno sempre Lo stesso vettore E questo è un problema Perché noi Abbiamo detto Che vorremmo Che gli embeddings Rappresentassero le parole Stando al loro significato Giusto? Ma questo è impossibile Se i vettori Sono tutti uguali Vi spiego subito Che cosa intendo Prendiamo Ad esempio Una parola italiana Con più significati Che ne so O anche solo Apple Per dire Ok Apple ha tanti significati No? Due Che ci possono venire in mente Sono Mamma mia come scrivo male Comunque Due che ci possono venire in mente Sono La azienda Quindi la mela Morsicata E la mela vera Giusto? Vabbè Non è che lo distingo Moltissimo Questo Ok? C'è il brand E c'è il cibo Eppure Apple Dentro World2Vec Ha lo stesso Vettore Che metterà insieme Sia il significato Di Apple Sia il significato Del frutto E questo è un problema Perché vuol dire Che vicino al vettore Di Apple Ci sarà magari Microsoft O Mac OS Che ne so E allo stesso tempo Ci sarà Arancia E Pera Perché sia Un frutto Ed sia un'azienda Molto male Giusto? Molto molto male Ora dovete sapere Che questa cosa Si chiama Polisemia Cioè Le parole Hanno tanti significati Anche fini a volte Ok? Perciò La polisemia È una questione Che va considerata Perché i verbi Ad esempio Sono straordinariamente Polisemici Ok? Pensate ad esempio A un verbo Come Go Cioè Ha un sacco Di significati possibili A seconda di dove lo metti A seconda di Insomma È un bel problema Play Pensate play No? Play Play guitar Bravi che mi avete dato Un bel esempio Play guitar Ma anche Play Elden Ring No? Ma anche Play La rappresentazione Attoriale Play È Uno spettacolo Ok? Perciò Vi assicuro Che la polisemia È diffusissima Nel linguaggio Perciò Questo problema Di Word2Vec Non è bellissimo Non è bellissimo Perché I vettori Vengono un po' Spostati E mettono insieme Tutti i significati Ci sono stati Dei tentativi Di fare altri tipi Di vettori Tra cui anche uno mio Che si chiama Un set di vettori Che si chiama Leslex Ne ho pubblicato Un articolo Se volete Andarvelo a vedere In quel caso I significati Sono disambiguati Cioè Ogni significato Di una parola Ha uno specifico Vettore Diverso Un embedding Diverso A se stante Ed in effetti Su alcuni task Quali Word Similarity Eccetera eccetera I miei vettori Performano meglio Di Word2Vec E si gode Comunque Tutte queste cose Teniamole in un cassettino Perché Mentre Gli embedding Venivano sviluppati Sono Arrivati Noi nell'EP Abbiamo discusso Di cover Ah anche cover Un'altra risorsa Che ho fatto io Eeeh Boh Comunque Al di là di questo Al di là di questo Ehm Mentre gli embeddings Venivano sviluppati Anche le architetture Delle reti neurali Sono state Migliorate E pensate Ad hoc Per poter trattare Il linguaggio E qua arriviamo Spoilers Arriviamo Qui RNN E LSTM RNN E LSTM Sono Difficili Ok Difficili Sono Parecchi più difficili Delle cose che vi ho spiegato adesso Ok Perciò Ci alziamo Un pochettino Di livello Ok Ehm L'idea Delle RNN È in realtà Abbastanza intuitiva RNN Sta per Recurrent Neural Network L'idea di Ricorrenza O ricorsione Diciamo All'interno del mondo Dell'informatica È classica Si sa Per chi Non è invece Affamato di queste cose L'idea Semplicemente È che C'è un loop All'interno Della rete neurale La rete neurale Non va più in avanti Ma gira su se stessa In un certo senso Questo Lo so Che farà male Ai vostri cervelli Ok Farà soffrire Grazie Mikolov Che si è appena iscritto al canale Farà Soffrire I vostri cervelli Ok Ma noi Cerchiamo di spiegarlo In maniera semplice Prendiamo questa frase Il concetto è stato Noioso Per i primi 15 minuti Il concerto Scusate È stato noioso Per i primi 15 minuti Ma poi è stato Terribilmente Eccitante Se noi guardiamo Soltanto alle parole Che ci sono qui dentro Ok La parola Noioso E terribilmente Lascerebbero Immaginare Che la cosa È stata spiacevole Sì c'è Eccitante Però eccitante È soltanto una E soprattutto È al fondo Della frase Quindi Capite come nella lingua Sia fondamentale Avere traccia Di tutta la sequenza Per poter comprendere Immaginate Quando voi Leggete una frase Non dimenticate Quello che c'è prima Avete bisogno Di seguire la sequenza Avete bisogno Di avere un'informazione Più potente Del contesto Di soltanto Che parola Ci sta di fianco Ok In inglese poi Ci sono altre questioni Fondamentali Come ad esempio Se io Scrivo la frase Bob Is My Friend He Is Awesome Immaginate Di poter guardare Soltanto una parola Alla volta No È un bel problema Perché questo I qui Chi diavolo è I Chi Voi Sapete Che è I Soltanto Perché qui c'è Bob Ok Perciò Perciò L'introduzione Di una Nozione di Memoria All'interno Delle reti È stata Rivoluzionaria Straordinariamente Utile Le RNN Quindi Sono fatte Così Allora L'idea È che E quindi Diciamo così L'idea è che c'è un loop Ok Questa è una RNN Srotolata Ok Forse posso farvi vedere questo disegno Ok Questa qua è una RNN Lo vedete che c'è un loop Ok C'è un loop C'è l'informazione Il calcolo Che viene Fatto Quando si processa L'input Tipo la terza parola Dipende Da ciò che la rete Aveva computato Processando La parola Numero 2 Lasciamo stare Ripeto L'architettura Esattamente come fatta E che calcoli Vengono fatti La cosa che dovete portarvi nel cuore È una e una sola Ok Per poter Eseguire I calcoli Su Tipo questa è la frase Il concerto è Ok Per poter eseguire i calcoli Su concerto Abbiamo bisogno E usiamo I calcoli Che sono stati fatti Su il Ok Questo Si intende per Memoria Questa è una memoria Molto scarsa Le RNN Di base Sfruttano soltanto L'informazione Allo step precedente In informatica Si dice Che Il valore Tiesimo È calcolato Sfruttando il valore T Meno unesimo Ok Così come Perché vedete Che Dentro il pallozzo Che processa X2 Che è questo qua Ci entra X2 Ma ci entra anche H1 Che è La computazione Su X1 Va bene Quindi vai a sfruttare L'output del calcolo precedente Esattamente 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 Quindi Ti intendi di informatica Eh Bravo Continua così No Sì Ma è più che altro Un hobby Quindi Che cosa sono Ste lettere Che ci sono qua X1 X2 X3 Sono il nostro input Le nostre parole Oh Sono gli embeddings Perché abbiamo detto Che le parole Non possono entrarci Quindi qua Ci sono gli embeddings Ci sono gli embeddings Li stiamo usando Finalmente Potrebbe essere anche War2Vec Perché no War2Vec L'embedding Viene messo All'interno Viene inserito All'inizio Questo qui È tutti zeri H0 Possiamo pensare Che siano Tutti zeri Nel chilling Ok Un bel vettore Di zeri Processiamo X1 E Poi Diamo Il Diciamo Il frutto Di questo Processo Che si chiama H1 Lo inseriamo Nel processare X2 Insieme Ovviamente A Il Processing Di X2 Questi due Messi insieme Processano Vengono presi Finiscono in H2 E Vengono usati Per fare X3 Ok Piuttosto Guarda L'idea È veramente Semplice Ci sta Anziché Fare Una parola Alla volta Io faccio Che la parola Tiesima Ha bisogno Della computazione Effettuata Per la parola T Meno Unesima E sono a posto Considerate Che la computazione Della parola T Meno Unesima A sua volta Era stata Influenzata Dalla T Meno Due Sima E Dalla T Meno Tresima Dalla T Meno Quattresima Ok Quindi Il più Impattante Sicuramente La parola Precedente Però Anche Tutto un po' Quello che c'è Prima Impatta Bene Queste sono le formule Che non Faremo E non Calcoleremo Ma L'unica cosa Che voglio Farvi vedere Ok Qua ci sono I pesi Della rete Questi qua Sono i pesi Della rete Questi Io voglio Soltanto farvi vedere Che per calcolare HT Sfruttiamo XT Quindi quello Al suo tempo L'input Del suo tempo E HT I meno Uno L'informazione Al tempo Precedente Questa è una Recorsione Bella e buona E come il Fattoriale No E poi Alla fine C'è sempre La solita Softmax Perfetto Perfetto Bene Quindi le RNN Sono fatte Così Sono Sfruttate Per Task Dove Il linguaggio Veramente Molto importante Vi faccio Un esempio La sentiment Analysis Che cos'è Un task Di sentiment Analysis Un task Di sentiment Analysis E' un task Nel quale Noi Data una frase Vogliamo sapere Se è una frase Positiva O negativa Se è una frase Magari Di disgusto Di rabbia Di felicità Di eccitamento Pensiamo di avere Questa frase Ok La RNN Dovrà sputare fuori Prende questa In sequenza Come vi ho fatto vedere Ehm Alla fine Ti dice E' una frase Positiva E' una frase Negativa Quindi alla fine C'è un nodino Di output Che classifica Questo Ehm Questo signore qua Ok E ti dice Questo messaggio positivo Pensate ad esempio Nelle recensione Questa roba qua E' usata per davvero E' usata per davvero E' usata per davvero Ehm Ad esempio Come fa Un politico A sapere Che cosa ne pensa Twitter Di una certa idea Fa la sentiment analysis Sui tweet Che parlano Di quel tema I tweet I tweet Hanno L'hashtag No Diciamo che Uno fa La legge Mensa No Qualcuno scriverà Ah la legge mensa E' proprio una bella cazzata Hashtag Legge mensa Tu prendi tutti i tweet Che hanno Hashtag Legge mensa Dentro Li fai processare Da una rete neurale Di questo tipo Lei ti dice Guarda Il 70% Dei messaggi Diceva Era un messaggio Di positività Di supporto E il 30% Era un messaggio Di invece Hate E di Disgusto Ok Quindi Questo è un esempio Di task L'RNN Se possono servire Un sacco Di altri task Volevo soltanto Darvi un esempio Specifico Ok Ehm Bene Ma C'è un problema Ci sa C'è sempre un problema L'RNN Sono Lente Ok Sono lente Sono lente Perché Perché C'è questo problema Di ricorrenza Ok Quindi Ci mettono Un po' A processare i dati Moreover Sì Sono meglio Di ricordare La singola parola Ma Non ricordano A lungo raggio Sequenze Più lunghe O Catene Di frasi Sono Impossibili Per l'RNN Perché Nell'andare avanti Ok Si dimentica Inevitabilmente Le cose precedenti Perché Si disperde Sempre di più L'informazione Tipo H1 Perché H1 Finisce in H2 Che finisce in H3 Che finisce in H4 E quindi Via via Plop 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 Mentre invece Nel linguaggio Ehm Nel linguaggio Noi Noi tendiamo A ricordare Sequenze Molto più lunghe Immaginate Che possiamo Leggere Tre pagine E avere in testa Tutti i riferimenti Di quelle pagine Ok Perciò Ehm Perciò Ah C'era bisogno Di qualcosa Di meglio Ok Ah scusate Mi sono dimenticato Di dire una cosa Importante L'utilizzo Degli embeddings Qui Migliora In generale Tutta la computazione Perché La rappresentazione Delle parole Al suo interno Già Ehm Implementa Un concetto Di contesto Come abbiamo detto Con War2back No Cioè Se tu rappresenti Le cose meglio E' ovvio Che poi la rete Lavora meglio Perché Hai una rappresentazione Interna Più fine Più interessante Più utile Quindi gli embeddings Qua Sono Ehm E' importante Dargli già Degli embeddings Buoni Ok Bene Le RNN Comunque Fanno A Fanno A Una diretta Evoluzione E migliorazione Delle RNN Sono Le LSTM Siamo Sempre più E' sempre più difficile Chat Io non vi dico niente Sulle LSTM Vi dico soltanto che Al loro interno Hanno Aggiunto Dei pezzi Fermi Fermi Non vi Buttate Hanno aggiunto Dei pezzi Che permettono Di estendere La memoria O meglio Di regolarla Con più precisione Decidendo Cosa si dimentica Cosa si ricorda Ok Questi tre pezzi Si chiamano Input gate Forgotten gate E output gate Che sono queste tre porzioni Qua rispettivamente Ok Let's Marvin gate And get it on Queste tre qua Ok Il principio è lo stesso Il principio è lo stesso E' sempre una rete ricorrente La LSTM Però hanno Riescono a memorizzare di più Ok Tanto Non Non entreremo Nel dettaglio La questione E' soltanto questo Ricordatevi RNN E' di base Una cosa un po' più semplice LSTM Ne sono un'evoluzione Stando per Long Short Term Memory E niente Quindi Questo è quello che fanno Introducendo questi gate Ok Ehm Bene Ma adesso Andiamo alla parte Veramente divertente Perché Avete visto che c'era già scritto C'è il cpt C'è stata un'idea No Le sigmoidi Sono da tutte le parti Le sigmoidi Sono da tutte le parti Non fanno niente di speciale Sono funzioni di attivazione Ehm Le LSTM Ok Al di là di fare meglio Quello che facevano Le RNN Sono anche Grazie che hanno Grazie al fatto che hanno Questa memoria migliorata Sono ottime Per implementare Reti Di tipo Sequence To sequence Quindi Nuovo Nuovo gradino Sequence To sequence Questo lo dovete capire bene Ok Ehm I fattori di Dimenticaggio E apprendaggio Sono tutti regolati Dai parametri Ok Quindi Fidatevi di me Non è importante E' importante Quello che vi dico adesso Perché La struttura Base Di Un'architettura Sequence To sequence È fatta Da Un Encoder E un Decoder Ok Perché 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 Sequence To sequence Dopo che ho spiegato questo potete farmi un po' di domande Ok Perché Sequence To sequence Perché nel linguaggio Ok Predire la parola vicina Ok Classificare Ma Uno dei task più importanti Più interessanti È naturalmente la traduzione La cosiddetta Machine translation E la machine translation È un task Che richiede di convertire Una sequenza di parole In un'altra sequenza di parole Da una lingua All'altra Le architetture Sequence To sequence Fanno un giochino Molto divertente Ossia Immaginate di avere due traduttori Ok Anzi Di avere due persone Scusate Che conoscono ognuno due lingue Quindi abbiamo Persona 1 Che conosce Ad esempio L'italiano E Una certa lingua X Poi c'è persona 2 Oh Persona 2 Conosce L'inglese Ok E Un'altra lingua X La stessa Ok Quindi Nessuno dei due Sa entrambe le lingue Che ci interessano Perché noi vogliamo tradurre Da italiano A inglese Ok Ma hanno una lingua in comune Allora Che cosa fareste voi Se conoscesse queste due persone E volesse tradurre un testo Dall'italiano all'inglese È abbastanza ovvio No Attendo un vostro feedback chat Glielo farei tradurre Ok Esatto Dall'italiano all'inglese X è una lingua vera E diciamo Che ne so Il francese Facciamo tradurre Dall'italiano Al francese E poi dal francese All'inglese E in questo modo Riusciamo a tradurre Dall'italiano all'inglese Allora Allora Questo signore qui Lo chiamiamo Dottor Encoder E questo signore qui Lo chiamiamo Dottor Decoder Dottor non c'è ovviamente Per Perché mi piace dire dottor Decoder Ok Quindi Che cosa abbiamo Abbiamo una struttura E qua in mezzo Tra l'encoder E il decoder Si parlano Soltanto In Xese Giusto? Adesso Tenetevi per mano Perché La lingua Con la quale Si parlano L'encoder E il decoder Sono Gli embeddings Tan 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 Cioè L'encoder Traduce In embeddings Dall'italiano A embeddings Il decoder Converte Da embeddings A inglese Ok Perciò Non resta Che trovare qualcuno Che abbia Abbassato Un sistema Un algoritmo Che abbia abbastanza memoria Per produrre dei buoni Embeddings Come encoder E che abbia abbastanza memoria Per riconvertire Diciamo Gli embeddings Dall'altra parte E sono le nostre LSTM Attenzione Non sono singole LSTM Sono blocchi Di LSTM Qua veramente Le architetture Si fanno complicate Quindi Lasciamo stare Esattamente cosa c'è dentro Quello che però Dovete capire Che è importante E che L'encoder Che è questo qui Prende le frasi In italiano Viene allenato Proprio Da tradurre Dall'italiano All'encoder Diciamo Scusate Dall'italiano All'embedding E La Il decoder È abituato A riconvertire A partire Da un embedding A generare La frase Diciamo Tradotta Ok Qua dentro I due Si passano Gli internal states Della prima Del primo blocco Di LSTM Gli stati interni Diciamo Che sono Degli embedding Gli stati interni Dell'encoding Dell'encoder Vengono passati Al decoder Che inizia A produrre La frase Quindi inizierà Con The Poi the weather Is Nice Una roba del genere Vedete che stiamo Iniziando ad arrivare Ci stiamo avvicinando A GPT Eh Lo hanno usato Questo giochino qua Di Partire Da qualcosa E poi Generare quella dopo E poi quella dopo E poi quella dopo E o non è quello Che fa GPT Lo vedete Quando scrive Ci stiamo arrivando Pian pianino Ci stiamo avvicinando Ok Come mai Ha tradotto Weather E non time Perché Le informazioni Non sono in ordine Non sono in ordine Vengono tutte Sintetizzate Negli stati interni E dall'altra parte Questo decoder È stato allenato È stato allenato a parlare In inglese Perciò Non dirà mai Is nice The weather Perché in inglese L'ordinamento è diverso Ok Questo Questa domanda Che mi hai fatto È molto Molto Interessante Molto Molto Utile Ok Questo tizio Vi ricordo Che sa parlare In inglese Quindi lui Non produrrebbe Mai Una frase Seguendo L'ordine Dell'italiano Ma Quello che hai detto Tu È veramente Un punto Importantissimo Ed è una Delle cose Fondamentali Per cui non basta Fare parola Per parola La traduzione Non funziona così Non si traduce Parola per parola Si traduce per blocchi Di significato E per contesto Ok Per i modi di dire Cosa succede I modi di dire Infatti sono Gli idiomi Sono Bastardi Da tradurre E anche l'ironia Ad esempio Difficile da tradurre Ci sono molte cose Che sono difficili Da tradurre Il linguaggio Io la sto facendo Tutta semplice Ma il linguaggio È veramente Estremamente complesso Ok Bene L'idea è che L'encoder traduce In italiano A embedded E poi il decoder Da embedding A inglese Predicendo Il prossimo Carattere Via via Qua dentro Ci sono NLSTM Non è una Sono dei blocchi Va bene L'ultima cosa Che vi devo dire Però È questa E qua Arriva Il sacro graal Di questo settore Preparatevi Perché Ne leggete Se ne parla Dato che stiamo Stiamo trasferendo Informazione Dall'encoder Al decoder What if What if In questo pacchettino qua Pronti eh In questo pacchettino qua Che non si vede Perché lo sto facendo In verde Ma si può avere Una roba Se in questo pacchettino qua Io ci mettessi Altra roba Ad esempio Immaginate che Il nostro amico P1 Quando parla Con la P2 Con il P2 Scusate Quando parla Col signor P2 Ok Non gli dici Non gli dà Soltanto la frase In embeddese Ma gli dice anche Guarda Che le parole Più importanti Di questa frase Sono questa Questa E quest'altra Ok Decoder Decoder Della P2 No 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 Gli dice Oh Io ti do la traduzione Però gli dice anche Dude Fai attenzione Perché questa parola Questa parola Questa parola Sono particolarmente Significative Importanti Portano significato Rilevante Faccia attenzione Fai attenzione A queste parole qua Sono delle parole chiave Esatto A cui porre Attenzione Questo concetto Si chiama Meccanismo Di Attention Ok Vediamo questo esempio Ok Abbiamo una frase in francese La vogliamo tradurre in inglese L'accord Sur la zone Economique Européenne Ha été signé E note 80 qualcosa Che non li so fare i numeri in francese 80 80 80 80 Quelli parlano tutti così a somme Vi faccio notare una cosa molto importante Ok In francese Zone Economique Européenne In inglese European Economic Area Sono in ordine diverso Zone È qua Scegliessi in colore Che si vede Però sarebbe meglio Zone È finito qua Economique È rimasto in mezzo European È finito qua Vedete che hanno cambiato di ordine Infatti Questo disegnino Praticamente più è chiaro il quadratino di incrocio Tipo tra European E European Ok Più Dovete Più la L'encoder Dice al decoder Fai attenzione Perché questa parola qua È quella su cui devi fare attenzione Quando cerchi di tradurre European Ok Però Mentre traduce European Fa attenzione Ok Anche a Economique Così che Così come quando traduce Zone Cioè Area Fa attenzione Anche a Economique Vedete L'idea È che Tramite Tramite questo passaggio Di Questo ulteriore pacchettino Questo dossier Che viene consegnato Dall'encoder Al decoder Il decoder Sa fare meglio il suo lavoro Si concentra meglio Su determinate parti Diciamo che Pesa al suo interno Diversamente La competizione La competizione I collegamenti Ok Questo meccanismo Si chiama Attention Non ve lo spiegherò In maniera più Precisa di così Sappiate che Questa è l'idea Dell'attenzione Va bene Ok Avete domande Perché poi Arriviamo Alla fine I transformers Che sono Cioè GPT E Un transformer Avete domande Se ho due culture Differenti Che considerano Un certo evento In modo diverso In questo caso La traduzione Per embedding Sarà corretta? Non ha Molto senso La tua domanda È ovvio Che nella traduzione Ci sono delle Cose molto sottili Che non è detto Vengano colte Dall'embedding Ecco Non so se rispondo Ma Non è detto La qualità Di una traduzione Dipende da tante cose Per fare sentiment Analisi Se è meglio usare Questo genere di reti O tecniche basate Sui dizionari Questo genere di reti Ampiamente Nel passaggio di prima Non ho capito Come viene predetto Il segmento successivo Il decoder Ok Utilizza L'informazione Che gli ha dato L'encoder Più la parola Che ha appena generato Ok Quindi all'inizio Utilizza soltanto L'informazione Che gli da L'STM Per iniziare Quindi No E poi Lui cerca di trovare La prossima parola In realtà Il prossimo carattere Sensato Dipende Però La prossima parola Sensata Pensiamo come parole La prossima parola Sensata Che Diciamo Sia una traduzione Quindi rispetto a questa roba qua Ma contemporaneamente Sia coerente con D E Grazie al meccanismo Dell'attenzione Tra le varie cose che guarda C'è anche Ma qua Quanta Su cosa devo fare attenzione Quando faccio Questo Quando genero La prossima Ok Una roba del genere In che linguaggio Sono scritte Ste robe Irrilevante Python C Immagino Come fa l'encoder A sapere quali parole Dovranno avere Un'attenzione diversa L'encoder Inoltre conosce anche La lingua in cui Deve tradurre il decoder No L'encoder Non conosce La lingua in cui Deve tradurre il decoder Come fa L'encoder A sapere quali parole Dovranno essere Dovranno avere Un'attenzione diversa Diciamo che I vettori dell'attenzione Vengono calcolati Internamente Mentre l'encoder Lavora Ok Quindi Derivano Da A loro volta Degli embeddings Di input Tu l'attenzione Non è che la fai Tua mano Ok Ma È una Derivazione Del Del lavoro Dell'encoder Quindi in teoria Scrivendo le frasi Semanticamente Al contrario Si potrebbe rompere Questo sistema Cioè scrivendo una frase All'ultima Alla prima parola In ordine semantico Non ho capito Che cosa intendi Considerate che io Ve ne sto spiegando Comunque È una versione Molto ridotta Cioè Poi i sistemi Sono più flessibili Di quello che vi dico E sono più complicati E ce ne sono tanti Diversi Quindi tutto quello Che abbiamo visto Deriverebbe Da quello Che aveva Già fatto Il Google Motore Ricercatore Translator Amplificato Il 1000% Beh Queste cose Penso Sono adottate Da Google Come viene gestito L'errore GPT Riesce a interpretare Bene Anche parole Scritte male C'è un passaggio Intermedio Dell'encoder Di correzione Dell'input No Diciamo che La rappresentazione Del linguaggio All'interno Di questi Modelli È così Astratta Da È così Diciamo Astratta In generale Da sostanzialmente Ignorare Il problema Dei Dei Misspell Cioè Parole che sono Scritte un po' Diverse Ma che hanno Identico contesto Rispetto a Quella che Cioè Quella scritta Giusta Ok Diciamo che Pizza E pizza Hanno lo stesso Contesto Quindi Dato il contesto Dato che quello è pizza Beh Sarà pizza Ok È esattamente come facciamo noi umani Tra l'altro Questa cosa del contesto È fondamentale No Se inverti l'ordine Cioè Se tu inverti l'ordine Ovviamente Il sistema soffre Perché le farasi Non sono più nell'ordine In cui dovevano essere No Se sbaglio scrivere Capisce l'errore Volendo La parola capisce È pericolosa Esistono lingue Che rendono questa cosa Più efficiente Per come sono pensate Sì Le lingue Sono Non sono tutte uguali Tradurre da una lingua Ad un'altra Può essere più difficile Che da quella stessa lingua Ad un'altra ancora Dipende Ci sono lingue più vicine Pensate allo spagnolo E all'italiano Oppure dallo spagnolo Al cirillico Molto diverso No O il giapponese Ma ho provato a scrivere Una chat In una frase Contra E l'ha capita Non usate La parola capire Che non capisce Niente Capendo ora Come funziona Mi è chiaro Del perché Non riesca bene A fare i conti matematici A meno che Non sappia già il risultato Esatto Links Ma questo è il blocco finale Il tema del ragionamento Su GPT Ci faremo una live apposta Su quello Perché GPT Non ragiona Non ha Non ragione Lo vedete Vedete il ragionamento Qua dentro Io vedo solo Pattern Propagazione Sofisticatissima Di pattern Non c'è ragionamento Lui non GPT GPT Non dice Ah Questo è il verbo Questo è il complemento Oggetto Non fa niente Di tutto del genere Oh Poi può anche essere Che non sia utile Perché anche noi Non processiamo le frasi In italiano Identificando Complemento oggetto Eccetera Le processiamo così Per pattern Quindi è molto vicino A quello che fa il nostro cervello In realtà Ipoteticamente Ma Se Richiesto Di Cioè Al suo interno Non ha una reale rappresentazione Di verbi E aggettivi Tutta quella roba lì Non c'è Ok La costruzione logica Non c'è Per niente Se non Dobbiamo usare la parola capire Che cosa dovremmo dire No vabbè Ci sta Potete usare capire Perché voi Abbiate capito Che cosa significa Capire in questo contesto Ok Interpreta Interpreta Va bene Una cosa che non ho capito È come suggerisce Gli articoli Da cui Prende le fonti Facendo diverse prove Ho notato che si inventa I nomi di sana pianta Fra Con calma Quello è GPT Questo non è ancora GPT Questi sono i modelli Sequence to Sequence Facciamo il salto Arriviamo ai Transformers Poi comunque su GPT Faremo una live apposta Cioè due ore solo di GPT Quindi Cerchiamo di tenere le cose Ancora un po' divise Ehm Bello Bello Ma Io vi avevo detto Che le RNN Erano lente Le LSTM Sono lente Quindi Qui Ci sono dei pacchettoni Di LSTM Due pure Insomma Sti modelli Sono lenti Ma lenti per davvero E poi Le LSTM È vero Che sono meglio Delle RNN A memorizzare Ma comunque Non riescono a memorizzare Sequenze Indefinite Ok Dopo un po' Si perdono Tra l'altro La cosa del perdersi Anche GPT Ce l'ha ancora Cioè Lo vedete Che dopo un po' Non riesce più A Non si ricorda più Da dove era partito Ok E allora qui Arriviamo alla vera Ultima rivoluzione Questo giochettino Dell'attenzione È l'essenza Del Ultimo modello Che c'è adesso Che sono I Transformers Quelli Che hanno fatto I Transformers Hanno detto Sai cosa Fanculo Alle reti Ricorrenti Non le usiamo più Usiamo Soltanto Soltanto L'attenzione On steroids Ok Ho sbagliato Non è anche qua Eh sì Il meccanismo Dell'attenzione È così Potente Che Può sostituire L'intera Questione Della memoria Cioè I Transformers Non hanno memoria Non funzionano come le RNN Ma Sono dei modelli Sequence to sequence Quindi Rispettano Quella Dualità Encoder Decoder Ecco lo so Qua ci sono le cose brutte Per davvero Rispettano Quella Struttura Encoder Decoder Viene preservata Ok Ma Al loro interno Non ci sono più Retti ricorrenti Vedete Retti ricorrenti Qua C'è Attention Masked Attention Feed Forward Che sono quelle La vecchie C'è Softmax Ci sono un sacco di cose Che avete visto in giro Ma non ci sono più Le RNN Né le LSTM Ok No no Transformers Si chiamano proprio Reti Transformers Queste Perché Transformano Tramite Encoder E decoder Adesso qui Ragazzi Entrare nel dettaglio Di questo Veramente Si fa doloroso Però Almeno una cosa Voglio dirvela Io prima Vi avevo detto Che è importante La sequenza Giusto È importante La sequenza Cioè Se no Nella lingua È fondamentale L'ordine delle parole Siete d'accordo Giusto Quindi I cosiddetti Positional Positional Encoding Ok Positional Embedding Scusate Che sono fatti Da una fase Di positional Encoding Che Anche questi Codificano L'ordine Delle parole Ok Anziché utilizzare La memoria E questo Sblocca Una cosa Fondamentale Dei Transformers Ossia Sono Parallelizzabili L'esecuzione Di un Transformer Non è in sequenza Perché capite bene Che In questi signori qua Tutto deve essere Fatto in sequenza Dal primo All'ultimo passo Zero Parallelizzazione Questi Dottori Qui Invece Sono Parallelizzabili Una volta Che abbiamo La nozione Di Di dove Sono messe Le parole In un Embedding Possiamo Far girare Contemporaneamente Su grossi Blocchi di testo Tutta L'architettura Qua siamo Veramente A delle cose Complicate Ma non importa Ok Le cose che dovete Capire è che I Transformers Fanno Uno Tolgono L'LSTM O qualunque Sistema Ricorrente Due Utilizzano Positional Encodings Per avere L'informazione Posizionale Delle frasi E Quindi Riuscire Diciamo Sostituiscono La memoria Con questo Meccanismo Tre Aggiungono Un nuovo Modo Di utilizzare La attention Il meccanismo Dell'attenzione Che Anche questo Contribuisce a sostituire Il problema Della memoria La questione Della memoria E In particolare Utilizzano Una cosa Che si chiama Self Attention L'attenzione Di prima Guidava Le parole In output Rispetto Rispetto Alle parole In input La self Attention Invece È un'attenzione Delle parole In input Rispetto Alle parole In input Cioè Rispetto A loro Stesse Questo Il mio Cane È bello Il mio prof È un cane Ma anche Ieri Sono Andato Scusate Questo Lo devo fare in inglese Non ha senso Yes Yesterday Yesterday I've Seen An apple Keynote I Love I love Apples Ok Dunque Capite bene Che il significato Di cane E il significato Di apple Qui Sono In entrambi i casi Sono due significati Diversi Se noi Utilizziamo Un meccanismo Di self Attention Sulla frase L'embedding Che rappresenta Questo Apple È diverso Dall'embedding Che rappresenta Questo Apple E anche L'embedding Che rappresenta Questo cane È diverso Dall'embedding Che rappresenta Questo cane Saranno Sempre Degli Embedding Di cane E di apple Ok Quindi non è che Varieranno Completamente Ma questi Sono dei nuovi tipi Di embedding Si chiamano Embedding Contestuali Che Sbloccano Una abilità Diciamo Non so anche come dirvelo Sono straordinariamente Più potenti Più potenti di Word2Vec Perché io Ve l'avevo detto Prima Ve l'avevo detto Prima Ve l'avevo detto Guardate che Word2Vec Soffre di Meaning Conflation Cioè Lo stesso Qua Con Word2Vec E lo stesso Vettore Questo qui Ma Non può essere Lo stesso Vettore Lo vedete Benissimo Che sono due Frasi Completamente Diverse Il significato È completamente Diverso E quindi Grazie ai vettori Contestuali Che sono Diciamo Powerati Powered by La self attention Siamo in grado Di fare Dei lavori Molto Molto Più fini Sul linguaggio Ok No Li produce La rete stessa Questi Li produce La rete stessa Si risolve Il problema Esatto Di polisemia Che dicevamo Prima Molto bene Molto bravi Molto bravi Bravi Vedo pochi Che scrivono Ma Vi vedo Lo so Queste sono cose Veramente tanto Difficili Ok Cioè Io non vi mentirò Non è che Io sappia riprodurvi Esattamente Tutto quello che succede Qua dentro Ok Poi queste cose qua Alla fine La maggior parte Le persone Le usa Non le ho fatte io Ne comprendo Le migliorie Il significato Profondo Ma la parte Tecnica Tecnica Tanto quando Cioè Voi per usare Una rete Così Poi alla fine fate Bert Punto Give me the thing Ok Non è che Sono molto 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 Più Facili Da usare Infinitamente Più Facili Da usare Che da capire E per questo Che io ve le spiego Cioè se avessi fatto E tra l'altro Se avessi fatto una live Dove aprivo un terminale E vi facevo vedere Queste cose qua Era pure Cioè Attirava pure Più gente Ma avrei Ma avrei soltanto Ancora una volta Spinto Una questione Di Ah Le intelligenze Artificiali Invece no Io voglio farvi vedere Che cosa c'è dentro Perché così potete capire Più profondamente Come mai si comportano Come si comportano Comunque Comunque Poi se volete Facciamo anche la live Dove vi pastrocchiamo Però almeno Avete delle basi Ok Ehm Ora La struttura Quindi Questo disegno Diciamo Non lo fa vedere benissimo Ma Questo è il decoder Oh ma c'è sempre Il Coso troppo piccolo Bello grosso Ok Questo è il decoder E questo è l'encoder Ok Vi faccio notare Che Qua c'è Abbiamo quasi finito Qua c'è n per x Nx Perché Di solito Questi oggetti Fatti così Non si usano Singoli Se ne usano N Tipo GPT2 Utilizza 12 Cose Adesso C'entriamo in GPT Ok Vi è circa chiaro Qua Questo Questo Questa architettura Ok E proprio a un passo Da GPT Adesso ci arriviamo A GPT Bene Vi è chiaro Facciamo il salto Andiamo finalmente A parlare di sto GPT Facciamo il salto GPT È una rete Decoder Only Perché Perché GPT Non deve Capire Quello che dite voi Deve Continuare Quello che dite voi Quindi Ricordatevi Ricordatevi che Le sequest Le architetture E questo sequest E in particolare Questo diciamo È il transformer Completo Che ha encoding E decoding Ok L'encoding Serve per capire Profondamente Il significato Di quello che scrivete voi Mentre il decoder Serve per Continuarlo No? Nella fase di traduzione Sostanzialmente Per tradurlo E quindi In un certo senso Costruire la frase Tradotta GPT Deve rispondere A quello che dite voi Deve continuare Quello che dite voi Quindi non ha bisogno Dell'encoder In particolare Con Una stack Di questi qui Cioè una pila Di n volte Questo Avete un modello Che si chiama BERT Non dirò altro Però BERT Permette di risolvere Task Utilizzando Vettori contestuali Che sono quelli Che vi ho spiegato prima Che sfruttano La self attention Infatti lo vedete Che Questo multi head Non vi spiego Perché si chiama Multi head Però fondamentalmente E' soltanto una questione Di parallelismo Comunque Ma questa qui E' la self attention Ok Qui c'è self attention Qui C'è self attention Qui c'è attention Attention classica Come fate a capirlo? Beh basta guardare le frecce Lo vedete che La Questa qui Che è self E questa qui Che è self Hanno Tre frecce Perché Sì Ma tutte e tre Ok Non vi dirò Perché Ma tutte e tre Sono Derivano Dall'input O Diciamo Dal Dal precedente input Ok Però il punto È che arrivano Tutte Dalla stessa parte Ok Invece qui Vedete che questa attention Che è quella classica Mischia due frecce Che vengono dall'input E una che viene Dalla vecchia generazione Ok Ah qualcuno sa Con k V Q Qualcuno sa Chiave valore e query Ma non entriamo così tanto Nel dettaglio Va bene? Questo però diciamo Dalle frecce Dalle frecce si capisce Dalle frecce si capisce Che questa è self E che questa invece È la classica Perché mischia Vedete che questa frecce Vabbè qua ci ho cagato Sopra sto disegno Però No Qua Lo vedete che Dalla classica Quella classica Prende questa linea Qui Che arriva dall'input Qua siamo nell'input Siamo nell'encoder E glielo infila dentro Al decoder Che è qua Ok Bene Parliamo di GPT Quindi GPT È fatta Soltanto Da decoder È Un Impilaggio Di decoder La versione base Di GPT2 È fatta Da 12 decoder Messi uno Sull'altro Poppo Perché 12? Perché avevano provato A fare delle cose E hanno visto che 12 Andava bene Cosa cambia Da GPT2 A GPT3 A GPT4 La GPT4 In realtà Secondo me Non ha ampliato Il modello GPT2 A GPT3 È lo stesso È uguale Ok Cioè Siamo veramente Vi ho quasi Descritto perfettamente Che cos'è GPT Ma ha più Più blocchi Ok Le diverse versioni Ad esempio Di GPT3 Da Vinci Curino Com'è che si chiamano Sono Il numero di decoder Che ci sono dentro Il numero di parametri E anche il numero di dati Che ci ha infilato dentro Ok Quindi Questa è la cosa Ovviamente non è solo così Perché tra GPT2 E GPT3 Ci sono state tante differenze Anche di finezze Su come è effettuato Il training Eccetera Ma di questo Parliamo adesso GPTX Che cos'è GPT Sta sigla Adesso Siete in grado Di descrivere Di capire Pensate che Che cosa incredibile Siete in grado Di capire La sigla Di una delle robe Più complicate Che ci sono Al momento Nel mondo Dell'intelligenza artificiale Generative Perché genera testo Generative Perché genera testo Perché fa quel sistemino Che adesso andiamo a vedere Nel dettaglio Di Impilare una parola Dopo l'altra Di cagarti fuori Una parola dopo l'altra Pre-trained Perché è allenato Tramite training Pre-training La parte pre Ve la specifico subito Tra un istante T Transformer Ci siete Ci siete GPT Vuol dire Generative Pre-trained Transformer In particolare Se volete Flexare un termine in più Vi dico che è anche Autoregressive Autoregressive Significa proprio Questo giochino Di Appicciare Una parola Dopo l'altra Ad esempio Voi scrivete A GPT Occhio che questo Non è chat GPT È GPT Sono due cose diverse Lo so Lo so Che è pieno Di cose diverse Non siete mai Arrivati alla vera fine Però è tutto così GPT Che cosa fa? Tu gli dai Una Un input Recita La prima Legge Del Di Isam Isam Ismoff Ismoff Mi veniva di Isaac Newton Asimoff Comunque Non è Perché mi veniva Isaac Asimoff Comunque Recita La prima Legge Ok Poi Dollarino Significa fine Dell'input Ok In questi giochini qua Di sequenze È pieno di caratteri speciali Cose che mascherano Che tolgono Non ve le ho spiegate Sappiate che ci sono In mezzo delle cose Questo simbolino qua Significa Vai Vola piccolo mio Questo input Ok Non è Non è Processato Da un encoder Lo scrivete direttamente Voi Ma GPT Lo Sfrutta Senza tutto il processo Dell'encoder Ok Lo sfrutta Direttamente Per continuare Ok È come se L'avesse generato lui Questo testo In un certo senso E te lo continua Ti Ti va avanti Ok Ti va avanti E E dice A Robo Però la cosa Chiave che dovete capire qui È che A Lui l'ha generata E se lo riusa Come input Ok Questo significa Autoregressive Significa che Ogni parola che genera Lui se la Rimangia Diciamo Se la rielabora Per fare la successiva Per fare la successiva Per fare la successiva È per questo che è straordinariamente Coerente Nel piccolo Le frasi suonano bene Perché Sono le frasi Cioè Lui copia delle cose Che ha visto in giro Ma Copia In senso di pattern Non in senso di copia In colla Ovviamente Ok Va bene? Questo è il funzionamento fondamentale di GPT E non è che le genera a caso queste frasi Cioè io vi ho fatto tre ore di cose Per farvi capire che le cose che genera Si basano su tutti questi meccanismi Su vettori contestuali, su positional encoding Ok? I vettori contestuali a loro volta sono C'è tutto il concetto di embeddings C'è tante tante cose Ok? Però Questo è il suo funzionamento Questa è la base fondamentale Di GPT Autoregressive sta per questo Ma come fa a fare quello che fa? Beh un pezzo vi ho già risposto Ma in particolare come facciamo ad allenare GPT A fargli fare quelle cose lì? Perché poi ne fa tante no? Giusto? Cioè come fa lui a capire Ad esempio che recitare significa riproduci Che ne so Entriamo nella fase di training Nella fase di training Noi prendiamo La fase di training è fatta di tre fasi Non so Uno Unsupervised training L'abbiamo spiegato che cosa significa Unsupervised Significa Io gli metto dentro Uno sfacelo di testi Ok? E basta E faccio girare E questo diciamo Immaginatelo che affini I vettori contestuali All'interno E tutta la sua rappresentazione interna Del linguaggio Ok? Poi Facciamo Supervised Fine tuning Supervised fine tuning Significa Fare una roba fatta così Io voglio insegnare In realtà Scusate Già nell'unsupervised training Noi lo addestriamo A rispondere In maniera sensata Ad alcuni dei nostri task Ok? Tipo How are you? E poi dopo ci mettiamo la frase tradotta Ok? Mettiamo un tag speciale Mettiamo un tag speciale Ok? Questo tag speciale Vuol dire Che dopo c'è la traduzione In training Noi gli diamo questo Gli diamo frasi in italiano Tag speciale Frasi in francese Glielo dagglielo 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 dai Me ne dai tante Ok? Oppure possiamo fare summarization Cioè il task di riassumere testi Come facciamo? Facilissimo Abbiamo un intero database di summarizazioni Si chiama Wikipedia Questo è l'articolo Questo è il sommario Prendiamo l'articolo Gli mettiamo in mezzo un task Summarize E poi ci schiaffiamo il sommario dopo Pum Fatto Ecco il nostro training set E ancora Lo alleni A fare questo giochetto qua Ok? Tutta questa roba qui Diciamo rientra nel supervise fine tuning Dipende Un po' il supervise Un po' il supervise Ad esempio se noi vogliamo allenarlo A fare sentiment analysis Come dicevamo prima Bisogna dargli un po' di robe Che hanno annotato degli umani Ok? Ehm Bene Infine Task specific input transformation Alcuni task appunto sono troppo complessi Per essere scritti soltanto così Quindi bisogna un po' trasformarli Renderli linguaggio naturale E poi gli si danno anche qua gli esempi Va bene? E veramente questo qua Lo vedete che è 12 per Questi sono 12 encoder Esattamente come vi avevo fatto vedere prima Soltanto l'encoder Ok? Bene Ora Quindi cosa dobbiamo capire? Perché si chiama pre-trained? Perché GPT ha fatto un allenamento Durato un mese Ok? Per un mese Quello si è mangiato testi Mangiato testi E ha imparato a rispondere a queste robe qua Ok? Poi Poi Ehm Noi lo usiamo adesso Quindi Allenare una rete di questo Magnitude Questo è un modellaccio gigante Ok? Allenare un language model di queste dimensioni Richiede risorse Tante Ne parleremo nella live dedicata a GPT Qua voglio darvi soltanto un accenno Ok? Su come funziona E su come funziona L'allenamento di GPT GPT è un modello che appunto richiede Veramente tante Tante risorse Ehm Ma una volta che è pre-trained E allenato Lo si può Rifinire Rapidamente Dandogli ulteriori esempi Lo avete fatto L'avete visto fare Quando gli dici Generami una roba fatta così E gli dai un esempio Lui lo fa subito Lo fa subito perché? Perché E infatti il titolo Della Del paper Ehm Che parla di GPT Ehm Transformers Are a few shot learners Cosa vuol dire? Significa Che Ehm Basta poco Una volta che hai un grande modello Così Basta poco E lui subito si adatta Subito E in grado di risolvere La nuova cosa Manca soltanto più Ogni versione nuova Di far ripartire L'allenamento a capo Sì Se è una versione Completamente nuova Sì Non sono sicuro Ad esempio che GPT4 Sia completamente nuova Rispetto a GPT3 Questo sia il vecchio modello Di GPT3 Ma rifinito Con pezzi nuovi Dopo Prima Ripulito Non lo so Non sono sicuro Mi documenterò Quando farò la live Apposta su GPT Bene Questo conclude Questo incredibile Viaggio Che abbiamo fatto insieme Ragazzi E ragazze Non so Quanto sono stato chiaro Ehm So che le cose Che volete capire Di più Non ve le ho ancora spiegate Che è veramente Oh ma sto GPT Ma alla fine Lo sa fare sta cosa Perché non sa fare i calcoli In realtà Con un po' di fantasia Potete già Risolvere tante delle domande Perché In quello che vi ho spiegato qui Ci sono le motivazioni Dietro tutto quello Che succede Con GPT A partire dal fatto Che sia scarso Con i numeri A calcolare A fare dei calcoli Dei ragionamenti complessi Dal fatto che si dimentica Le cose dopo un po' Dal fatto che È jailbreccabile Dal fatto che Eh Sia Parzialmente razzista Bias Tutto 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 è spiegato qua dentro Però ovviamente Non mi aspetto che Lo possiate Dedurre direttamente Dalle informazioni Che vi ho dato Ciò nonostante Queste informazioni Voi le avete Le avete Latenti Nel vostro cervello E quindi Il 2 aprile Quando farò la live Su GPT E vi porterò Numeri alla mano La dimostrazione Che GPT Non è Quello che viene Promosso Non è una straordinaria Eh Un genio straordinario E non si può usare Per risolvere cose Ok A meno che Voi non sappiate Già la risposta Questo Tutto questo Vi sarà chiaro Avevo iniziato la frase Ma mi sono perso Visto Ho anche la memoria corta Non è un oracolo Esatto Esatto Insomma Tutto questo È per la prossima puntata Quindi GPT L'abbiamo fatto Fine Io qua Ho fatto una slide Di hype Una slide di hype Che Fine No Perché c'è ancora La prossima live Il appunto 2 di aprile Alleniamo GPT3 Un linguaggio Un language model Autoregressive Visto Guarda che roba Few shot learning Gua Tutte cose che vi ho spiegato Potete capire L'abstract Ma siete pazzi Siete kings Siete dei fottuti kings Do bedeg interaction Off Bis Tac Pi